ed eccoci qui per il power stage l'usa da vrc allora 2 44 fatti in gara finora quindi da battere 2 e 44 speriamo di riuscire che dite cioè facciamo un giretto di allenamento prima di cominciare io direi di sì allora e magari no no eh ok tutto bene andiamoci a fare giusto un giro di riscaldamento prima di un power stage concedetemelo non sto andando al ride torna Antone destro 5 4 3 2 1 vai torna Antone destro per destra 5 tacca in sinistra 3 chiude 2 scende e gira sale taglia destra in sinistra 4 su salto non tagliare in sinistra 4 100 salto sulla viaia sinistra 2 gira volto chiude 170 a cartello bianco torna Antone sinistro volta 120 delta 2 gira volto apre per destra 4 sudosso in destra 4 apre scende per destra 4 in due tempi intornatone dentro e sulla viaia sinistra 4 lunga chiude torna Antone sinistro 50 senza 4 stacca per chiude molto occhio torna chino dentro 120 centra 2 gira volto per destra 5 meno in sinistra 3 lunga chiude 2 scende e gira sale stai a destra in non tagliare in sinistra 4 meno sudosso salto in sinistra 4 meno 100 sulla viaia salto sinistra 2 gira volto 150 a cartello bianco torna Antone sinistro 120 dentro a 2 gira volto per destra 4 meno sudosso destra 4 meno chiude in destra 4 in due tempi chiude intornata dentro sinistro sinistra 4 lunga chiude intornata sinistro 50 detra 5 stacca occhio in chiude torna fino a destra stop fine qui stai che la mia parte ok 2 38 69 non so se è il il mio personale voglio vedere un attimo l'osada urc allora il mio personale tra l'altro è con questa macchina ah che 2 38 40 quindi sono avvicinato ok ma che ho fatto online no no non ho fatto online no ok peccato peccato perché mi sarebbe piaciuto farlo online oddio oddio andiamo andiamo un po' torna Antone destro, 5, 4, 3, 2, 1, vai, torna Antone destro, per destra 5, tacca, in sinistra 3, chiude 2, scende in gira, sale, stai a destra, in sinistra 4, su salto, non tagliare, in sinistra 4, 100, salto, 1, la viaia, in sinistra 2, gira volto, chiude, 170, agli attello bianco, torna Ante sinistro, porta, 120, dentro a 2, gira volto, apre, per destra 4, sudosso, in sinistra 4, apre, scende, per destra 4, in due tempi, intorno Antone destro, e sulla viaia, sinistra 4, lunga, chiude, torna Antone destro, 50, sinistra 4, tacca, per destra 2, gira volto, per destra 5, meno, in sinistra 3, lunga, chiude 2, scende in gira, sale, stai a destra, in, non tagliare, sinistra 4, meno, sudosso, salto, in sinistra 4, meno, 100, sulla viaia, salto, sinistra 2, gira volto, 150, al cartello bianco, torna Ante sinistro, 120, destra 2, gira volto, R, destra 4, meno, sudosso, destra 4, meno, chiude, in destra 4, in due tempi, in due tempi, chiude, intornante dentro, e sinistra 4, lunga, chiude, intornante sinistro, 50, destra 5, tacca, occhio, in, chiude, torna Antino destro, stop, fine qui, dai che l'abbiamo fatto. ok, 2, 38 e 77 vabbè, sono contento, dai, mi sono avvicinato al mio personale, se lo facevo online, il primo veniva anche meglio, però, sai com'è, quel po' di fifa, sempre ci stanno, ok, è stato un piacere, ragazzi cari, vi abbraccio, buona domenica, e buon RBR Pro, è sempre il divertimento più grande della storia del videogame.